Walter Micichè, le ragazze del cheerleading tornano dal campionato nazionale con il primo premio. Campioni d'Italia, una vittoria meritata e molto sudata in palestra. Sudata, lo dobbiamo chiedere alla tecnica Simona Scerra perché è lei che li ha eseguiti magistralmente. Io ovviamente da parte come direttore sportivo sono contentissimo anche perché abbiamo avuto il primo titolo italiano nel 99, il secondo nel 2003 e adesso con Simona siamo arrivati nel 2016. Felicissimi di questo obiettivo raggiunto anche perché i ragazzi hanno dimostrato grande crescita non soltanto individuale ma in questo caso anche sportiva. Che poi è il vostro obiettivo, la crescita complessiva dell'individuo? È l'obiettivo principale, di fatti quando sono stati fuori ci sono ragazzi per esempio che la prima volta che prendevano un aereo, la prima volta che facevano una gara di questa portata, quindi essere in un palazzetto con 5.000 persone ovviamente dà una formazione sicuramente diversa. Le Starlight della Gymnastics Club dunque trionfano, che esperienza è stata per te come tecnico ma soprattutto per gli allievi? Un'esperienza emozionante per me perché ho visto la crescita di questi ragazzi anno per anno, giorno per giorno. Siamo partiti con la consapevolezza di aver fatto bene in palestra, di aver dato tanto. Non speravamo in questo risultato perché comunque tanti agonisti partecipavano al campionato italiano e alla fine questa inaspettata sorpresa è che ci ha resi veramente contenti, felici. I ragazzi oltre ad una crescita in più motivata da una gara ad alta competizione hanno avuto questa grande gioia e il fatto è che lavorando alla fine i risultati arrivano. In gara quanti i vostri atleti e contro quanti? Erano sei ginnasti e atleti della Gymnastics Club contro altri 620 atleti. Quindi lascio immaginare l'ansia e poi il paradosso di aver preso gran parte dei podi. Il primo podio addirittura ha preso due volte in due categorie, forse le più complicate del cheerleading. Quindi ci riteniamo soddisfatti. Adesso si torna a sudare in palestra? Si ritorna a sudare in palestra perché non ci fermiamo. Siamo gasati da questa vittoria e poi si sa, una volta conquistato il podio più alto si diventa un po' bersaglio degli altri ragazzi che comunque tenteranno di strapparci questo podio al prossimo Grand Prix del Mediterraneo a cui speriamo di partecipare. È una vittoria che ha un sapore molto dolce visto che la squadra comunque è di recente costituzione. Non sono tantissimi anni che avete avviato questa disciplina? Non sono tantissimi anni e poi vi è anche la consapevolezza che questi ragazzi si allenano comunque da un paio d'anni. Ragazzi che come tanti altri non hanno mai avuto grandi esperienze in fatto di ginnastica artistica e cheerleading e dal nulla sono diventati campioni d'Italia e questo ci riempie d'orgoglio.